La paura di non piacere La paura di non piacere riguarda molto il genere femminile. Nei maschi c'è anche questa sfumatura del carattere, ma è più incentrata nella sfera sessuale. L'uomo si sente insicuro soprattutto per la sua prestanza sessuale, dell'impotenza, una paura pazzesca dell'impotenza e una paura pazzesca di non avercelo abbastanza lungo. Queste sono le paure comuni, quindi le insicurezze maschili si concentrano in questo campo qui. Quelle femminili hanno un universo in confronto. Potremmo dire che la donna è l'universo entro cui l'uomo è semplicemente la luna della Terra. In questi problemi. E quindi le donne cosa fanno per compensare questa insicurezza, compensare questa mancanza di amore verso di sé? Cercano di essere estremamente perfette nel mondo esterno. Cercano di... non tutte, alcune. Alcune reagiscono in un modo, altre in un altro, se c'è sempre quell'insicurezza. Alcune, noto anche, andando in giro, parlando con le persone. Io stessa a volte ho paura di non essere abbastanza per un determinato luogo, per esempio. Magari sono vestito in un modo troppo poco consono per il luogo in cui mi trovo. Allora, già dallo sguardo si vede se sono insicuro, perché inizia a guardare come una preda. Guarda. Si guarda intorno perché ha paura che il predatore la stia predando. Scusate il gioco di parole. Allora, lo sguardo è fuggevole. Guarda da una parte e dall'altra. Si guarda. Si cerca di autoosservare. Si sistema i capelli. Si gratta dietro l'orecchio. Si tocca il collo. E tutti questi sono segni di insicurezza. Ma non è il fatto di essere vestita male o di non essere truccata bene. È disistima di sé. È mancanza di amore. Il problema è sempre quello. Se manca l'amore, tutti gli effetti del mondo esterno poco valgono, se non punto il mirino verso l'obiettivo, verso il problema principale. Allora, da qui cosa succede? Soprattutto nei social in questa era, si vanno a cercare figure all'esterno che mi portano un esempio di perfezione fittizia. Non sono vere tutte quelle foto che hanno 100.000 like, 200.000 like, 30 milioni di followers, dove queste donne sono rifatte. Sono più plastica che sostanza organica. Non c'è più sostanza organica, non c'è più pelle nel loro viso. Il loro viso è totalmente deformato da questa plastica che la gente si inietta, da questi filler, da queste deformazioni. È una deformazione che oggi, per una mancanza di amore verso se stessi e per una ricerca all'esterno di approvazione, di perfezione fittizia, si va a cercare. Una donna non dovrebbe puntare solo all'aspetto fisico. L'aspetto fisico è importante. Ho sentito una volta una frase di qualcuno dire L'apparenza è il regno dell'essenza. Quindi ci sta curare il proprio aspetto, ma non renderlo il fine della propria vita. E non pensare, noi donne soprattutto, non pensare che un uomo, ad un uomo piacciamo soltanto se abbiamo le labbra in un certo modo, se abbiamo il trucco in un certo modo, se abbiamo i capelli fatti in un qualche modo. Perché un uomo che sta con una donna soltanto per la perfezione esterna è un uomo superficiale. Io non credo che le donne che si vogliono un minimo di bene vogliano una relazione con un uomo del genere. Quindi noi in primi siamo ad attrarre determinati tipi di persone, che siano amicizie, che siano relazioni d'amore. Ci dovrebbe essere un'educazione a questo, già alle ragazze, già da quando sono piccole. E numero uno, che la donna deve bastare a se stessa, non esiste, dovremmo saperlo ormai, che non è indispensabile per una ragazza stare con qualcuno per valere qualcosa. Non è indispensabile a un certo punto, a trent'anni, scatto all'orologio biologico, devo far figli perché sennò sono un alieno. Tutto questo, se nasce da un desiderio interiore, in cui sento che in un determinato momento ho incontrato la persona con cui sto bene, sento di voler fare, di voler avere dei figli, allora ok. Ma se questo deriva da un'insicurezza, una disistima di sé, la mancanza di amore verso se stessi, allora lo faccio perché lo fanno gli altri, lo faccio perché vedo le mie amiche che lo fanno, mi sposo perché questa è l'età giusta per farlo, perché dopo è troppo tardi. Una volta fatta quella roba, non sarò felice dopo, mi troverò con una persona che non conosco magari, non conosco veramente perché avevo fretta di correre, di bruciare le tappe. Allora torniamo indietro, prendiamoci il tempo, smettiamo di credere che essere da sole, per noi donne parlo, sia sbagliato e iniziamo ad amare ciò che veramente siamo. Prendiamoci cura del nostro aspetto fisico, ma prendiamoci anche cura della nostra parte emotiva soprattutto, che noi la conosciamo molto bene, e anche della sfera mentale che fa un po' quello che gli pare, come la pallina del flipper, incontrollata. E una volta conosciuto, non dico al 100%, ma una volta entrati un po' dentro se stessi, dentro se stessi, si vede il mondo in maniera diversa e si smetterà di cercare l'approvazione di un uomo, il like ad una foto su Instagram per bastarsi. Si sentirà da dentro una pienezza che ci porterà a guardare tutte queste cose come passatemi il termine, Cazzatene, perché sono delle cazzate. Grazie.